Scoprirete tutta l'immagine, tutto e uno, attraverso Mario del Giglio. Voi, per il percorso della vostra vita, avete scelto di entrare in un fotogramma. Tutta la vostra vita è in relazione a quel fotogramma. Una volta terminata la vostra esistenza, scoprirete tutta l'immagine in esso contenuta, che voi avete vissuto. Ma quel fotogramma non lo avrete minimamente trasformato, perché tutte le vicende in esso contenute esistevano già in quanto facevano parte del film. Ecco cosa significa vivere i fotogrammi. Non possiamo cambiarli, ma imparare, accettarli e viverli. Il fotogramma è quindi un insieme di tantissime immagini, ed ogni immagine corrisponde ad una esperienza terrena. Pertanto, ogni esperienza vissuta è un insieme di eventi fissati in un fotogramma. L'insieme delle vite, e quindi l'insieme dei fotogrammi, ci porterà a vedere per intero il film che è uno. Quando si dice che la vita che trascorrete è una illusione, significa che nel momento in cui la vivete, accettate una realtà già esistente. Quindi dovrete vivere più fotogrammi per conoscere e poi sentire tutto il film. Tuttavia questo stesso film è già esistente, quindi tutto è.